Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo mister Paolo Cannavaro, dopo l'introduzione da parte della proprietà e del mister vi lasceremo spazio per le vostre domande, inizieremo di nuovo con una domanda a testa poi passeremo alle altre domande, vi chiedo di prenotarvi per alzata di mano prima di fare la domanda, grazie mille. Buongiorno, ci siamo già dati prima. Non vi nascondo che quest'estate è stata abbastanza calda, non dal punto di vista del tempo perché il tempo ci ha graziati, però a Vercelli abbiamo fatto un po' una rivoluzione. Allora, del direttore sportivo abbiamo parlato prima, adesso c'è il mister. Allora, come logico e normale che sia, abbiamo fatto, insieme al direttore, abbiamo fatto diversi colloqui con altri profili. Devo dire che sono stati tutti colloqui molto interessanti, profili magari qualcuno un po' più esperto, qualcuno un po' meno esperto, però alla fine abbiamo deciso per Cannavaro. Personalmente, oggi lo vedo per la prima volta perché è anche bello bruzzato, però ho parlato il telefono con lui e mi ha favorevolmente impressionato, mi ha favorevolmente impressionato per, vabbè, allora, non devo raccontare io il trascorso di Cannavaro, lo conosciamo qui, però quando ho parlato il telefono mi ha dimostrato una grande unità che secondo me non guasta mai, una gran voglia di venire a Vercelli, che personalmente a me piace, una grande competenza perché è una grande competenza e quindi alla fine la decisione del CDA insieme al direttore sportivo è stata abbastanza ascoltata, quindi all'unanimità abbiamo deciso per il mister. Mi ha detto, al telefono mi ha detto che mi ringraziava, mi ha detto non devi ringraziare il mister, devi venire qua a sputtare, a sputtare sangue ai giocatori. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il presidente per le bellissime parole, effettivamente ci siamo sentiti e le parole sono state quelle, sono state quelle e non vedo l'ora di iniziare e ripagare la fiducia che mi è stata data, soprattutto. Ci siamo parlati, confrontati, so che vengo in un posto dove c'è ambizione, c'è voglia di far crescere i giocatori, c'è voglia di proporre un calcio che comunque porti gente allo stadio e faccia venire la gente con passione e divertimento a vedere le partite. Sarà una bella full immersion soprattutto dall'inizio perché decido di cambiare un po' vita e lavoro e ho in testa tante cose da voler provare e provare a far fare ai miei giocatori e quindi questo comporta grande entusiasmo soprattutto dai primi giorni e grandi ore di dedizione al lavoro soprattutto da parte dei ragazzi. In questi giorni mi sono sentito spesso anche col direttore, stiamo comunque pianificando un po' il tutto per far sì che si parta soprattutto col piede giusto. Sono veramente contento di essere qui, ma non lo dico tanto per ma perché ci credo veramente. E' una bella possibilità, è una grande chance per me perché si sa che quando poi si inizia ad allenare da soli la cosa più difficile è trovare chi crede in te e io da questo punto di vista mi sento veramente evoluto in questo posto. Quando mi è arrivata la chiamata da parti di tutti insieme per dire se il nostro allenatore dentro di me si è acceso un fuoco, che è quel fuoco che io terrò sempre vivo e proverò a tenerlo vivo anche all'interno dei miei giocatori. Diciamo che direttore, ci siamo detti un po', siamo usciti un po' tutti dalla comfort zone, il sottoscritto, il direttore e la società, perché ognuno di noi sta facendo una scelta al di fuori della comfort zone. E credo che questo sia un valore aggiunto e sarà la nostra forza sicuramente. Poi se avete qualche domanda mi facilitate anche quello che sicuramente vorrete sapere voi. Massimo Canta di Carta Canta, benvenuto Paolo. Grazie. Hai detto del tuo desiderio, di come hai accettato la piazza di Vercelli. Ecco, volevo chiederti che cosa ti ha chiesto la società e qual è il tuo obiettivo per questa prima stagione. Grazie. Ma diciamo che so che sono venuto in un posto dove c'è una linea verde da coltivare. Una linea verde di ragazzi presi, cresciuti, non a caso, ma con un'idea di prospettiva nei confronti di questi ragazzi. Quindi so che devo lavorare con dei giovani che vanno comunque cresciuti, tutelati e allenati anche in un determinato modo. Non mi spaventa questo, sono un allenatore che crede molto soprattutto nel miglioramento dei calciatori perché ho avuto questo tipo di cultura sin da bambino che tutti gli allenatori che mi hanno avuto anche da grande, diciamo così. Credo in una metodologia ben precisa. La società non mi ha fatto richieste in particolare, ma sappiamo tutti che una società come Vercelli deve innanzitutto mantenere la categoria e far sì che questa linea verde possa crescere sempre di più per poi pensare in futuro a quello che ci sarà da fare. Grande umiltà sicuramente da parte del sottoscritto e da parte della squadra nell'affrontare l'annata, ma grande dedizione al lavoro è una cosa che imporrò ai miei giocatori, ma non perché è una legge ma perché per un percorso di crescita ci vuole dedizione al lavoro. Quindi questa sarà un po' la linea guida. Buongiorno mister Franco Bautieri, Vercelli Web. Senta, lei conosce il girone A, forse è il più tecnico e soprattutto là dove ci sono molto più giovani che rispetto agli altri gironi. Nel meridione c'è molto più pubblico, c'è partecipazione eccetera, altri investimenti. Qui si vedono società molto piccole che riescono sempre a fare grande la loro società. Ecco, questo è quello che forse chiede la Provercelli. Vediamo l'esempio del Ferralpi, una piccola cittadina che va in serie B. Poi è quello che è, quindi conosce il girone, sa che caratteristiche ha giù questo. Sì, conosco il girone perché negli ultimi due anni un po' il lavoro, un po' sono stato a casa e non sto mai fermo. Cerco sempre di aggiornarmi guardando anche i campionati di primavera, guardando i gironi di Lega Pro, guardando la B, guardando l'A perché uno non si deve mai fermare. Bisogna guardare il più possibile. So che questo girone ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Ci sono giocatori che vengono fuori da settori giovanili importanti soprattutto. Concordo col fatto che magari il girone del Sud Italia è un po' più, c'è più pressione probabilmente sulle piazze, sugli ambienti. Però poi c'è anche una statistica che dice che negli scontri diretti dei playoff spesso si vede la squadra del girone A che magari prevale su quelle del girone B o B, girone C. La storia un po' la dice anche da questo punto di vista. Però è calcio e Lega Pro è una categoria dove c'è qualità, soprattutto negli ultimi anni si è alzato il livello, si è alzato il livello dei giovani, i giovani arrivano e possono essere già protagonisti da subito. Mentre prima c'era sempre un po' al di là del sistema minutaggio che sicuramente è importante ma arrivano giovani già pronti. A differenza di prima che c'era un'altra fila diversa. Questa però è un girone importante, lo so. So cosa affronterò. Quando fuori il tema un attimo, il fratello cosa ha detto? Il fratello ha detto fai benissimo. Ma io post avventura di Udine mi ero confrontato con mio fratello perché era già stata comunicata la scelta da parte mia di voler allenare da solo. Perché poi nella vita arriva quel momento in cui ti senti di fare una cosa. L'ho sentita, ci credo, ho voglia di mettermi in gioco. Ripeto, esco da una comfort zone inteso come sarei potuto stare. Mio fratello non mi avrebbe mai mandato via dal suo fianco. Né per una questione lavorativa né per una questione affettiva. Però se lascia un posto così confortevole è perché credo in qualcosa. E quel qualcosa mi auguro che si possa avverare. Buongiorno mister, Paolo Torti, Vercelli Web TV. Io avrei più domande però cerco di concentrarle. Innanzitutto, complimenti per la forma fisica, penso che Spalletti vi ha perso l'occasione. Visti i risultati. Comunque, benvenuto. La domanda è la seguente. Penso che la sua emozione sia evidente e questo depone a suo favore. E a favore della scelta della società. E le chiedo questo. Negli ultimi anni, effettivamente lei ha ragione, la qualità dei giovani si è alzata. Un po' sono state scelte obbligate, diciamo, da un punto di vista economico. Un po' qualcuno ne ha fatto proprio una mission, diciamo. Il girone A ha dimostrato che è un girone dove corsa e grinta valgono forse il 70%. Lei che tipo di allenatore è? È un profeta? No. O è un concreto? Glielo chiedo perché è una domanda che circola negli ambienti calcistici. Allora, io so che c'è anche tanta curiosità in questo momento nel capire cosa può portare Paolo Cannavaro come allenatore. Sicuramente saper lottare prima di saper giocare è una cosa che è fondamentale nel calcio, al di là del girone, al di là di dove si giochi e del paese. Io vengo da esperienze anche estere, dove si pedala. Oggi il calcio, una volta era prima tecnicamente e poi fisicamente, oggi si è invertita la situazione. Ed è un bene per chi ha anche la questione tecnica. E se sei bravo tecnicamente, ci aggiungiamo anche la forza e la cattiveria, si diventa giocatore importante. Sicuramente la squadra ha già una buona base di lavoro, perché l'allenatore che mi ha preceduto ha dato comunque un'impronta forte. So che trovo un gruppo pronto al sacrificio e questo mi spiana la strada su quello che ho in mente. Perché comunque sono uno che ha voglia che la squadra lotti nel vero senso della parola. Grazie Mattia. Partiamo dalla società, dalla struttura che mi è stata messa a disposizione. Struttura già ben avviata, con delle figure già messe a disposizione. Struttura anche, basta guardarsi un attimo di fianco e vedere che c'è un campo che... La dice lunga, è un sintetico di ultima generazione, quindi significa garanzia per gli allenamenti e per la gara. Sono stati fatti degli aggiusti negli ultimi anni anche per le strutture esterne, palestra e via dicendo, quindi servizi anche per i calciatori, quindi per un allenatore. Arrivare in un posto così, per quello che ho anche io in mente, per quello che mi ho vissuto, già siamo a un ottimo punto, non a buon punto. Le figure che mi sono portato sono figure che vanno comunque ad arricchire quello che troverò qui, che sono il preparatore atletico che è Nicandro Pizzoco, che anche se lui non vorrebbe che io dicessi, è lì dietro. E praticamente come allenatore in seconda, al mio fianco, avrò Rolando Bianchi. Qualche sorpresa la facciamo anche noi. E' un ragazzo con cui ho fatto tante battaglie, qualcuna l'ho persa, qualcuna l'ho vinta. E' un ragazzo con cui ho fatto anche il corso d'allenatore, quindi ho condiviso tanto con lui. So come ragiona, sa come ragiono. Credo possa essere un valore aggiunto anche per completare quelle che sono le mie conoscenze. E ho puntato soprattutto su degli uomini forti, degli uomini seri. Al di là di quello che poi mi daranno in campo e mi daranno come aiuto. Picelli o l'anno bianco? Mi ha allenato bene. Nicandro Pizzoco. Nicandro Pizzoco. E' stato poi il mio preparatore negli anni d'oro del Sassuolo. Ha un'esperienza internazionale, ha un'esperienza che parte dal basso. E' un ex attaccante. Cerchiamo di fare più cose possibili, quindi non ci fermiamo alla normale. E' una persona in cui credo, è una persona che da quando ci siamo visti i primi giorni a Sassuolo è nata un'empatia forte, coltivata nel tempo e oggi sono contento che è qui al mio fianco, in questa avventura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.